Marina e Lara sono le principali sospettate per l'aggressione a Roberto Ferri, però sappiamo che loro in realtà sono innocenti, che non c'entrano nulla con questo episodio, ma l'unica colpevole è Suor Maura. Suor Maura che sta aiutando ormai da diverso tempo Lara in questo suo percorso di redenzione, la sta veramente aiutando tantissimo, soprattutto quando vede Lara in grosse difficoltà e Lara abbiamo visto fare dei passi indietro quando è tornato nella sua vita Roberto Ferri. Roberto Ferri che è andato a cercare Lara per convincerla a cambiare la sua testimonianza al processo, cioè lui voleva che Lara testimoniasse, dichiarasse che Ida ha preso dei soldi dalla vendita del bambino, quindi che non ha dato Tommaso via senza avere nulla in cambio, ma praticamente lo ha venduto, ha voluto in cambio dei soldi. Però Lara inizialmente ha detto a Roberto di non volerle sapere perché lei vuole assolutamente aiutare Ida a far riavere indietro Tommaso e quindi Roberto sembrava aver mollato la presa su Lara, ma in realtà poi abbiamo visto che Roberto ha giocato la mossa della seduzione, ha seduto Lara, i due hanno avuto un momento di intimità e tutto questo poi in realtà per cercare di manipolare Lara e farsela alleata. Quindi Roberto ha cercato di portare dalla sua parte Lara, cosa che alla fine però non è avvenuta. Lara poi ha avuto veramente dei giorni in cui sembrava veramente dubbiosa su che cosa fare durante il processo, su che cosa dichiarare, non sembrava più convinta di voler testimoniare a favore di Ida e fatto sta che Sor Maura soltanto guardando negli occhi Lara aveva capito che Lara aveva incontrato Roberto. Lara inizialmente nega e dice no, non è vero, però in realtà insomma Lara aveva già capito tutto e ha cominciato a dire a Lara tu devi assolutamente stare lontano da quell'uomo perché Roberto è il male e quindi se tu vuoi realmente redimerti, cambiare vita, devi cacciare via assolutamente Roberto, non devi più permettere di entrare nella tua vita, anche perché tutte le cose brutte, tutte le cose orribili che tu hai fatto nel passato sono state in funzione di quest'uomo. Cioè Lara è innamorata e lo è ancora, è ancora molto innamorata di Roberto e per questo è anche succube di lui, per questo motivo che Lara ha commesso delle cose gravissime in passato. e alla fine abbiamo visto che è stata Sor Maura ad aggredire Roberto Ferri. Lara che è stata interrogata dall'ispettore dopo che Roberto Ferri quando si è risvegliato si è ricordato di quello che era successo a casa di Lara Martinelli proprio la sera dell'aggressione. Roberto ha raccontato all'ispettore che quando Roberto è andato a casa di Lara ha la vista molto strana perché ha cominciato a fare dei discorsi strani e ha cominciato a dirgli che voleva tornare con lui, che potevano riformare una famiglia, crescere insieme il loro figlio Tommaso, ma innanzitutto Roberto ha detto a Lara guarda che noi due non abbiamo noi suoi figli insieme e oltretutto io non voglio tornare con te, anzi è stato un errore gravissimo venire qui, è stato un errore venirti a cercare e Roberto poi l'ha capito grazie alle parole di Marina perché Marina ha detto a Roberto guarda che questa tua ossessione di Tommaso ti sta allontanando da tutte le persone che ti vogliono bene e quando ti renderai conto di essere rimasto solo sarà purtroppo troppo tardi per te. E quindi quelle parole alla fine hanno pesato su Roberto, hanno contato perché lui ha cambiato idea, non voleva più andare avanti con questa storia di riuscire a riavere Tommaso a tutti i costi. E a quel punto Lara è andata su tutte le furie, c'è stata una colluttazione ed è in quel momento che Lara ha ferito Roberto al volto, infatti lui ha dei graffi e oltretutto Roberto ha detto all'ispettore guardi che Lara è una donna capace di fare qualsiasi cosa. E quindi l'ispettore ha convocato Lara e le ha detto che ora è ufficialmente indagata di non allontanarsi da Napoli. E Lara che poi alla fine ha ammesso appunto, ha raccontato la sua versione che corrispondeva con quella di Roberto, però lei ha detto, cioè si è dichiarata innocente, ha detto all'ispettore guardi che io poi non sono uscita per seguire Roberto, io con la sua aggressione non c'entro assolutamente nulla. Lara che è andata al convento per cercare Sol Maura, Lara che sono diversi giorni che sta cercando di contattarla ma non riesce a trovarla, gli hanno detto che è in ritiro spirituale, e Sol Maura l'abbiamo vista chiusa nella sua stanza a pregare ed è in quel momento che ci hanno fatto vedere la scena dell'aggressione di Sol Maura a Roberto Ferri. Sol Maura che è andata incontro a Roberto, gli ha detto che lui è il demonio, che deve lasciare stare assolutamente Lara, non deve più cercarla perché lei è un'anima inquieta, è un'anima che lei sta cercando di aiutare, ma questa cosa le sarà impossibile se continuerà ad esserci sempre Roberto di mezzo. E Roberto a un certo punto poi ha detto a Sol Maura ma sì vada pure da Lara, dalla sua anima irrequieta, tanto Lara non cambierà mai. e nel momento in cui Roberto ha voltato le spalle a Sol Maura è lì che Sol Maura ha colpito Roberto, lo ha colpito con il suo bastone e quindi abbiamo scoperto che è stata Sol Maura e lei la colpevole. Sol Maura che poi alla fine decide di andare a parlare con Lara, Sirica a casa sua e li rivela, le confessa di essere stata lei ad aggredire Roberto e che vuole andare alla polizia perché non vuole immettere in mezzo degli innocenti, non vuole che degli innocenti vadano, finiscano in galera al posto suo e che lei dopo aver affrontato la giustizia divina, infatti per tanti giorni si è rinchiuso nella sua stanza a pregare, ora deve affrontare la giustizia, quella terrena, quella degli esseri umani, quindi è pronta a costituirsi alla polizia. Ma Lara non vuole assolutamente, anzi dice a Sol Maura lascia che incriminino Marina, visto che lei in passato ha commesso delle cose orribili e le è sempre andata liscia, mentre invece lei no, lei è sempre stata una persona che ha fatto del bene, ha aiutato tanta gente e quindi non può pagare per un unico errore che ha commesso, non vada alla polizia e poi se lei finirà in carcere io come farò per proseguire il mio percorso spirituale, il mio percorso di redenzione, come farò e come faranno tutte le altre persone che sta aiutando in convento? Fatto sta che abbiamo visto alla fine Lara e Sol Maura in convento a fare delle faccende con Lara che dà comunque una pacca sulla spalla a Sol Maura come per dire, cioè vedere che lei è contenta del fatto che lei non sia andata alla polizia. Quindi al momento sembra proprio che Lara sia riuscita a convincere a Sol Maura a non costituirsi, a non andare alla polizia. Però come andrà a finire questa storia? Sol Maura verrà scoperta proprio dalla polizia? Oppure sarà Roberto Ferri a ricordarsi dell'aggressione e quindi a dire alla polizia che è stato aggredito da Sol Maura oppure sarà la stessa Sol Maura alla fine a decidere di costituirsi? Secondo te come andrà avanti tutta questa situazione? Secondo te cosa accadrà? Quindi ti raccomando scrivi tutte le tue opinioni, le tue considerazioni nei commenti. Ti invito anche di iscriverti al canale youtube e lo vuoi essere la vera squadra perché solo così potrai rimanere aggiornato sui prossimi video di approfondimento che usciranno su un post al sole ma anche sulla squadra e anche su tanti altri temi. E a questo punto ci vediamo più presto con un nuovo video. Ciao!